Partiamo come sempre dalla notizia per poi arrivare a parlare del tema e il tema è ancora quello ambientale, la notizia Extinction Montebaldo Ortus Europe, profumo d'ambiente a rischio estinzione. Inquadriamola. Al rifugio Novezzina, siamo a Ferrara Montebaldo, accanto all'orto botanico, è stata presentata questa essenza che ha uno scopo prettamente ecologico. In che senso? La vendita contribuirà a finanziare la salvaguardia dei fiori e delle piante che sono a rischio estinzione del giardino d'Europa, così denominato e bene e giustamente in Montebaldo. Dove siamo? Siamo praticamente a Ferrara di Montebaldo, diciamo che sono le prealpi gardesane tra la provincia di Trento e quella di Verona. Abbiamo inquadrato bene la zona. Il nostro ospite è il professor Daniele Zanini, già appunto docente di botanica ed è il referente scientifico dell'orto botanico ed è questo che ci interessa oggi andare a vedere, anche con delle belle immagini, quindi non perdetevi assolutamente questa pubblicazione. ed ecco tra di noi appunto il professor Zanini, a cui diamo il nostro buon pomeriggio professore. Anche a voi, grazie per l'invito. Allora abbiamo detto che quella notizia è un bel pretesto per parlare poi del tema vero che è ambientale oltre che ambientalistico, però partiamo da questa notizia, questo profumo d'ambiente che ha rischio estinzione, come è stato detto, per salvaguardare il baldo. Ma come è nata comunque questa idea? Lo si può in qualche modo inquadrare l'argomento? Sì, inizialmente ci era stato chiesto, allora ci avevano parlato di una donazione per sostenere l'attività dell'orto e quindi tutte le attività, sia didattiche che di ricerca, legate a un ambiente in pericolo, in pericolo per vari motivi. Parlo del Monte Baldo, Ortus Europe. Prima di tutto c'è un riscaldamento globale che interessa tantissime fasce del nostro monte, ma ci sono altre emergenze che rendono problematica la sopravvivenza di alcune specie, di alcuni areali, perché è sbagliato parlare di singola specie a rischio di estinzione. Quando noi biologi parliamo di estinzione parliamo di alterazioni di interi habitat, realtà come i tratti aridi che abbiamo nella zona collinare, i quali anche per una trascurazione, una trascuratezza legata all'ambiente, attività che non vengono più fatte come la pastorizia, rendono questi tratti aridi vulnerabili, quindi riscaldamento globale ma anche abbandono di alcune aree che vengono conquistate dal bosco. Queste aree… Allora io direi, professor Giannini, io direi che intanto abbiamo inquadrato l'argomento, poi entriamo, abbiamo tutto il tempo per entrare in particolare. Debo fare almeno due precisazioni doverose per informare il rifugio Novezzina, che appunto accanto all'orto botanico del Baldo è gestito da il Ponte Cooperativa Sociale Onlus di Verona. Mi dica se sbaglio, professor Giannini. No, no, va bene. Ecco, e poi va citato Italmark, che è un'azienda di supermercati fondata a Brescia, che ha voluto e immesso nei suoi punti vendita appunto questo profumo, devolvendo parte del rigavato all'orto botanico del Baldo. Giustamente il professor Giannini ha detto noi biologi, perché ho detto che insegnava botanica, ma lui è un biologo. Senta, professore, di che cosa profuma questa essenza? La curiosità? Ce lo faccia odorare in qualche modo, se si riesce? Allora, inizialmente ci era stato chiesto di fornire un elenco di piante legate agli ambienti a rischio di estinzione di piante aromatiche. E questa è un'idea molto interessante, anche a livello scientifico curiosa. Ecco, io un anno fa ho fornito un elenco degli areali a rischio di estinzione e di alcune piante che sono a rischio di estinzione in quegli areali, partendo dalla fascia collinare. Ecco, nella fascia collinare io avevo segnalato alcune essenze molto aromatiche che quindi sono ricche di oli essenziali, vivono in un ambiente molto caldo, quindi gli oli essenziali sono abbinati anche a queste piante che amano il caldo e tra queste c'era la santoreggia, l'issopo, poi leggo il dittamo, il diantus cartusianorum, cioè sono delle piante che vivono negli ambienti aridi e che hanno questi profumi particolari. La mia curiosità era questa. Siccome i prati aridi e i collinari sono a rischio di estinzione, come habitat, anche le piante che ci sono all'interno sono a rischio di estinzione. Quelle profumate sono queste. Ecco che tutto è molto chiaro. Senta, professor Zanini, allora, altra informazione che devo dare, ma mi corregga se dico qualcosa che non va. L'orto botanico e il rifugio, dunque il rifugio è una struttura comunale che fa parte del parco naturalistico scientifico di Novezzina? Sì, sì. Ecco, fa parte di questo. Allora, io direi, siccome ci hanno realizzato delle bellissime immagini della zona e poi ci sono anche le sue immagini dell'orto che noi abbiamo un poco montato, ma per far capire ai tanti che sono alla visione e all'ascolto di che zona stiamo parlando, io credo valga la pena che insieme ci guardiamo questo minuto e mezzo di bellissime immagini. Grazie. 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 Ecco, l'abbiamo voluto lasciare fino ai crediti finali ringraziando chi ci ha fornito queste straordinarie immagini. Allora, Professor Zanini, in Montebaldo veniamo all'oggetto vero della nostra puntata. È riconosciuto dai naturalisti come un territorio di grande interesse dal punto di vista paesaggistico, ambientale, ma lei ci sta dicendo anche da un punto di vista biogeografico per la presenza di queste specie. Mi pare che si possono definire endemiche, no? Perché sono lì. Ecco. Allora, alcuni dati che ci può portare per aiutarci a capire le dimensioni di questo valore e di questa diversità biologica, quali possono essere? Allora, in primis la notorietà del Montebaldo, sappiamo tutti, inizia nel 1500 con il rinascimento e con l'epitito che viene dato dai medici e dai naturalisti del 500 di Ortus Europa. E qua c'è tutta una storia legata all'attività di ricerca di botanica medica che interessa il Montebaldo. Poi si parla anche di endemismi, cioè il Montebaldo sappiamo che ha funzionato durante le glaciazioni, ma anche durante le fasi calde, come isola di rifugio. E, come sappiamo anche dalla biologia generale, le isole normalmente, come le isole Galapagos, funzionano da aree di speciazione. Quindi non è escluso che all'inizio sia stato sovrastimato il valore di questa montagna perché, come isola di rifugio, ha offerto ai botanici del 500, del 600, del 700, questi studiosi, una quantità di specie endemiche notevole. Con gli studi floristici attuali questi numeri si sono un po' modificati, però il Montebaldo comunque rimane nella lista, nella prima posizione della lista delle grandi montagne prealpine, perché ha una quantità di biodiversità, sia animale che vegetale, che è invidiabile a tutte le montagne vicine. Quindi non ha un primato legato strettamente alle specie endemiche, ma alla biodiversità generale. E questo è dovuto anche alla posizione geografica. Bovio nel 500 diceva che il Montebaldo è a metà del mondo, siamo al 45esimo grado di latitudine nord, ma non è questa la motivazione. Le motivazioni sono scientifiche, sono state studiate tantissimo, oltre che nella posizione della sua linearità, il fatto che il Montebaldo sia separato da barriere geografiche molto importanti, che hanno funzionato anche da corridoi floristici e faunistici. Questo isolamento che non è avvenuto per esempio in Vessinia o in altre zone prealpine. Questo isolamento, ma soprattutto il fatto che in periodi anche caldi, il Montebaldo è stato punto di cerniera di tantissime piante che si sono mosse nord, sud, est, ovest. Un punto di cerniera, uno dice ma perché proprio il Montebaldo? Sappiamo la latitudine, ma la longitudine cosa ci interessa? Il fatto che il Montebaldo sia strettamente delimitato da due corridoi floristici e faunistici che sono la Val d'Adige e la Valle dei Laghi. Questo abbiamo capito essere un tema molto importante. Allora, vediamo se riesco a sintetizzare in tutto questo che lei sta dicendo, a di là del ridimensionamento dovuto ai tempi, significa patrimonio naturalistico, che è sempre più minacciato, come comprendiamo, dal cambiamento climatico. Adesso conviene che la regia mi mostri le poche immagini che abbiamo. Lei ci ha mandato delle belle foto, noi le abbiamo montate, ecco, possiamo anche vederle. Perché quindi nasce l'orto botanico e di che cosa è custode questo orto di cui lei è il referente scientifico? Allora, aspettiamo che... No, 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 ma può pure parlare, mentre le immagini vanno. Prego, prego, anche commentarle. Allora, normalmente si sentono politici, tantissime persone parlano di emergenze climatiche, emergenze globali, emergenze naturalistiche. Soprattutto gli educatori, gli insegnanti che lavorano in questo settore si chiedono, ma come si arriverà a porre rimedio, se si arriverà a porre rimedio a queste problematiche che stanno distruggendo biodiversità, vita, patrimoni genetici. Estinzione, infatti, noi abbiamo titolato, no? Estinzione, estinzione, estinzione. Ecco, allora uno potrebbe chiedersi come fa anche il mondo della scuola? Certamente dobbiamo insistere sull'educazione dei giovani e gli adulti hanno una loro mentalità e nei confronti del riscaldamento globale, noi viviamo in ambienti molto turistici, vediamo che non ci sono limiti, non ci sono limiti. I limiti non esistono, non esistono neanche nel risparmio del suolo, nel risparmio energetico, nel trovare soluzioni. E quindi cosa succede? Fare educazione ambientale, educare alla natura, al rispetto dell'ambiente, vuol dire avere ambienti e non libri, non solo libri da leggere, ma ambienti dove il giovane si avvicina e si appassiona a questa realtà. Quindi 30 anni fa... Ecco il docente che viene fuori, bravo, prego. Sì, ma altrimenti non c'è scampo, non ci sono attività o promozioni, o promozioni da dare ai giovani, o alternative. I giovani consumano come abbiamo fatto noi, adulti, consumano tutto. Invece bisogna avere rispetto e avere... E avere quindi... E questa è la cosa più difficile, avere... Che bisogna... Ecco, di avere la coscienza di fare dei sacrifici, cioè certe cose non si possono più fare. Allora, professor Giannini, abbiamo compreso bene, allora, le specie tra fiori e piante più emblematiche e che sono appunto rischio di estinzione, quali sono? Sì, allora, in primis, c'è una battaglia in atto, ma la conoscenza è questa, cioè la scienza ha i dati, e così come 30 anni fa si parlava di riscaldamento globale, si forniscono alle istituzioni. Noi abbiamo, nel Veneto, abbiamo una pianta che è protetta a livello europeo, si chiama Gipsofila papillosa porta, è un endemismo puntiforme, ecco qua abbiamo la specie a cui si faceva riferimento prima, cioè vive solamente nella zona di Garda e Costermano. Questa pianta non esiste quasi più, se non in piccoli aree, perché tutti quegli ambienti di crescita che cento anni fa sono stati descritti, insomma, dai primi studiosi di questa specie, sono spariti. E uno dice, come sono spariti? Beh, attraverso l'edilizia, perché avere una casa, vero, vista l'ago non è una cosa così, una cosa da poco, è un bene richiesto, vero, sul mercato e quindi noi naturalisti diciamo, vabbè. Si cementifica. Si cementifica. Secondo aspetto è che purtroppo tutte queste aree che cento anni fa erano utilizzate, ecco, ritorno al discorso, al concetto di prima, erano utilizzate come aree da legna, soprattutto da legna da ardere, e soprattutto per le pecore, per il pascolo, queste aree sono state anche in parte abbandonate, e quindi dove arriva il bosco non c'è più la gipsofila, dove arriva il cemento non c'è più la gipsofila. Ecco, questo è un primo esempio di un ambiente che è una specie che ha il rischio di estinzione, ma reale. Reale, certo. Noi naturalisti facciamo fatica a cercarla questa pianta, perché ormai è talmente, l'area è talmente privatizzata che non vai neanche più in quelle aree dove, in quelle morene, sciolte, diciamo, sono terri ipotecni, sono ambienti dove la pianta vegeta con estrema facilità, cioè si riproduce molto facilmente. Ecco, alterati questi e questi ambienti, la pianta è destinata alla estinzione. Senta, professore, come consigliato dalla società botanica italiana, l'orto dovrebbe assumere il compito istituzionale di sostenere la ricerca, l'attività didattica, esaltando un po' tutta la territorialità e il rispetto dell'ambiente. Non voglio chiederle se questo avvenga, perché immagino le problematiche che ci sono sui territori comunali, eccetera, ma un tentativo di fare qualche cosa l'orto botanico con i mezzi che penso saranno quelli che sono a disposizione, riesce a farlo? Sì, facciamo fatica, ma comunque l'idea è questa, le nostre attività si spendono soprattutto in questo senso. Noi facciamo eventi, suggerimento della società botanica ogni anno, che sono a tema e questi temi sono rivolti a sottolineare quella che è l'importanza della territorialità. Faccio un esempio banalissimo. Se io arrivo in una zona del Monte Baldo, dove cento anni fa c'era una pecora, la pecora brentegana, che era la pecora specifica del Monte Baldo, cioè esisteva solo sul Monte Baldo e adesso l'abbiamo persa noi biologi, l'abbiamo persa geneticamente, abbiamo iniziato un progetto per salvarla questa pecora brentegana perché se uno mi viene sulla colma di Malcesine o mi viene sui Pascoli di Novezza e mi trovasse una pecora che esiste solamente sul Monte Baldo, quale sarebbe l'impatto anche di tipo emotivo da vivere e poi come dato da spendere anche a livello turistico oltre che anche altri aspetti inizionale perché è una cosa che abbiamo solo noi. Noi l'abbiamo persa e ci abbiamo messo gli alpaca. Vedi qual è la differenza? Noi abbiamo delle sentieristiche dove si cerca di fare il ponte tibetano cosa che non c'entra niente con la nostra attività alpinistica. Noi abbiamo le nostre falesi e facciamo la nostra attività alpinistica ma i ponti tibetani da noi sono un'attrazione e sono fuori luogo così come anche nella cucina. Cioè noi abbiamo vantiamo una cucina di montagna che potrebbe essere sfruttata a livello turistico perché è unica perché è ricca di specie c'è ricca di storia ricca di specie alimurgiche che hanno una funzionalità ecco questo lo studiamo con l'Università di Verona e quindi il nostro compito come Orto è quello di promuovere la territorialità non possiamo vendere quello che esiste nella Nuova Guinea o in America noi dobbiamo vendere anche perché non deve fare inquinamento se io devo prendere della carne non posso andare a comprarla a 5.000 km di distanza me la devo fare io la devo vendere una carne come quella della pecora brentegana che è prodotta sul territorio così come i formaggi e così come tante altre tradizioni ecco il nostro impegno è proprio questo salvare anche a livello etnografico quello che dà il Montebaldo a livello culturale attenzione che c'è un aspetto che io ho trascurato che il Montebaldo è conosciuto in tutto il mondo perché sul Montebaldo nasce tra virgolette la botanica moderna con i nostri famosi vero medici che la descrivono come Ortus Europa se c'è un protocollo che è avviato per avere un riconoscimento unesco come bene dell'umanità il Montebaldo non è solamente per gli endemismi e la biodiversità ma è perché sul Montebaldo c'è la storia della botanica medica nasce nasce la botanica moderna sul Montebaldo nel 500 e lo riconoscono Linneo Sighi tutti i grandi studiosi che ogni 100 anni portano contributi importantissimi per la conoscenza di un territorio unico nessuno ha la storia nessuna montagna al mondo sulle Alpi ha la storia del Montebaldo lo conoscono tutti perché il Montebaldo è l'Ortus Italia noi non possiamo trascurarlo o farci dei campanilismi il riconoscimento unesco si basa su questi due aspetti la biodiversità importantissima che non dobbiamo perdere e l'Orto è attivo sotto questo profilo e poi vendere la storia del Montebaldo che è una storia dell'uomo è una storia della medicina è una storia della scienza botanica invece da noi diventa molto complesso fare tutto questo lo possiamo fare a livello di scuola la scuola si accorge subito se c'è qualcosa di diverso e le cose che stonano ecco noi lavoriamo in questo senso lavoriamo con la divulgazione e con la ricerca scientifica siamo in collaborazione con l'università di Padova l'università di Bologna l'università di Verona in un modo molto molto stretto e abbiamo studenti universitari che vengono a fare tesi e che vengono a lavorare in una realtà che è piccolissima ecco lavoriamo sul territorio non solamente all'interno dell'Orto ma cerchiamo di far vedere quali sono le emergenze sul territorio che non sono solo quelle che ho elencato ma ce ne sono anche delle altre io credo che abbia avuto modo di dire tutte le cose essenziali che mi ripromettevo lei dicesse oggi anche con l'amore entusiasta e il fervore che ha messo in quello in cui crede da una vita perché va detto amiche e amici che il professor Zanini è una vita che ha dedicato la sua vita che ha dedicato questa tematica tra l'altro ricordiamoci allora che il ruolo del mondo vegetale e Tucur ricopre nella sostenibilità futura del nostro pianeta un ruolo importantissimo senta professore abbiamo fatto conoscenza attraverso la sua bellissima testimonianza di queste tematiche e problematiche che sono emblematiche di un certo modo oggi di salvaguardarlo il patrimonio naturale che possediamo e che rischiamo di perdere non voglio che sia una fugata veloce e basta ci ripromettiamo di ritrovarci per capire se prosegue il lavoro dell'orto botanico di cui lei è referente scientifico e le auguro intanto una buona estate e soprattutto un buon lavoro a presto professore grazie anche a voi grazie a tutti grazie grazie a tutti Grazie a tutti.